Ruba la bici e poi cerca di venderla online, ma il proprietario la riconosce. Minorenne è denunciato dalla polizia. Il proprietario della Due Ruote, dopo averla riconosciuta, ha chiesto un appuntamento al presunto venditore, ma al suo arrivo, ad attenderlo, c'erano anche gli agenti delle volanti. Il ragazzo si è così dato alla fuga, ma veniva rintracciato in Viale San Lazzaro. A quel punto ha confessato il furto, lasciandosi scappare che, forse, non era la sola bici rubata. ed infatti gli agenti nell'abitazione hanno rinvenuto una seconda bici provento di furto.